Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti sul mio canale. Prima di iniziare con il video di oggi, volevo approfittarne per ringraziare il mio amico che ha realizzato il logo e la copertina del canale e che realizzerà tutte le copertine dei miei video. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Adesso direi di iniziare subito con il video di oggi, in cui vi spiego brevemente perché ho deciso di aprire questo canale qui su YouTube. Io, fin da piccolo, ho sempre avuto una grandissima passione per il mondo del cinema, iniziando con film d'azione, infatti da piccolo mi mettevo sempre a imitare le scene di guerra e di combattimento perché mi piacevano tantissimo, fino ad arrivare ad apprezzare anche tutti gli altri generi cinematografici con il passare del tempo. E poi ho sviluppato un'altrettanta grandissima passione per il mondo delle serie TV. E io ho il piacere di condividere questa mia passione qui su YouTube con voi, magari anche scambiandosi opinioni e perché no, anche con delle critiche costruttive che qui sono ben accette. I video usciranno settimanalmente da uno a tre video con un quarto video opzionale. Tutto dipenderà dai miei impegni, dato che faccio anche l'università. Gli argomenti di cui parlerò nei miei video ovviamente riguardano il mondo del cinema e delle serie TV, quindi recensioni di film che ho già visto, recensioni anche di serie TV che ho già visto e anche commenti a trailer di film e di serie TV in uscita. Quindi sarà un canale prettamente cinematografico e che parlerà anche di serie TV. Detto questo, direi di aver concluso con il video presentazione di oggi e ci vediamo al mio prossimo video che sarà la recensione del film Joker di Todd Phillips. Ci vediamo alla prossima, ciao!